siamo una squadra di calcio a 5 siamo in ticino siamo fatta di giocatori praticamente di tutto il mondo quest'estate che vogliamo andare a partecipare alla champions league in portogallo a lisbona e ne saremo molto grati per ogni piccolo sostegno per poter pagare il volo l'hotel il terapista che viene con noi che abbiamo bisogno anche a volte se qualcuno si fa male di sostegno siamo molto orgogliosi di poter rappresentare la svizzera speriamo che all'ultimo potremo andare fino in fondo grazie mille a tutti per il sostegno